Biondi, voi parlate di errore tecnico-progettuale, perché? Il progetto è un progetto sbagliato dall'inizio, dall'origine, ma adesso si è aggiunta anche una clamorosa svista da parte del Consiglio di Stato. Io sono contento che ci sia rete 8 oggi con il Comitato Strataparco Benecomune, perché possiamo constatare insieme che sul sedimento della Strataparco non c'è nessun binario e non c'è mai stato. C'è stato soltanto ai tempi della ferrovia adriatica, che purtroppo questa amministrazione vorrebbe perpetuare. Però nella sentenza che è stata emessa dal Consiglio di Stato si dice che quello che transiterà sul Strataparco è un tram che viaggia su binari. In realtà quel mezzo, il filobus, è classificato tecnicamente come tram, ma un tram su gomma, quindi privo di vincoli di sicurezza sia materiali che immateriali. Noi abbiamo accolto con grande favore la legittimazione che i giudici hanno voluto darci per quanto riguarda la nostra opera trentennale di vigilanza, un'opera che è stata sempre svolta in maniera molto pacifica, responsabile, consapevole e appassionata. E continueremo, adesso che siamo stati legittimati, a vigilare anche nel periodo che interesserà i collaudi di quest'opera. Vedremo come andrà a finire, anche perché il Consiglio di Stato ha ribadito che le prescrizioni ministeriali devono essere adempiute in maniera vincolante. E quindi staremo a vedere come si risolveranno le criticità che sono presenti su questo percorso. Permangono irrisolti, insomma, i dieci punti critici. Sì, perché non può essere una sentenza romana a cambiare lo stato dell'arte e dei luoghi della città di Pescara. Battaglia tutt'altro che archiviata, possiamo dire così? Direi di no, direi anche purtroppo. A noi non fa piacere stare da trent'anni su questa questione. Ma purtroppo diciamo che siamo costretti a farlo, visto il modo in cui tutte le amministrazioni per la verità si sono poste su questa questione. Cioè senza voler ascoltare il parere, la voce dei cittadini. Che cosa avete a cuore? Soprattutto la sicurezza delle persone, no? Immagini. Certamente sì. Non è sicuramente come purtroppo affermano i nostri amministratori, la difesa egoistica di un privilegio che ci muove. Ma la necessità di tutelare la sicurezza di tutti, sia dei cittadini consapevoli dei rischi che corrono che di quelli che non lo sono.